Portoferraio e l'Elba tutta da oggi hanno la loro Petite Armée Napoleonica. Un gruppo di appassionati da anni ripercorre le gesta dell'imperatore Corso che ha lasciato un segno indelebile nella nostra isola durante il suo esilio insieme al suo seguito di militari. Oggi hanno deciso di costituirsi in associazione la Petite Armée appunto. Presidente è Luca Bellosi, sergente della Guardia Imperiale Napoleonica. Con lui, al seguito di sua maestà l'imperatore, la cantiniera in divisa del primo impero, il sergente degli zappatori, il capitano dei granatieri, il lanciere polacco, il colonnello Germanowski, il maresciallo Mutua, il generale Durot. 15 giorni fa è nata la Petite Armée ufficiale, nel senso è stato depositato l'atto costitutivo all'ufficio del registro, abbiamo il nostro codice fiscale e quindi siamo proprio ufficiali. Prima eravamo un gruppo di appassionati che si autofinanziava per cercare di fare le nostre ricorrenze storiche e ora invece grazie ad alcune persone che mi hanno invogliato a costituire proprio l'associazione napoleonica. Devo fare un grandissimo ringraziamento a Paolo Bandinelli, a mio padre e a tutte le altre persone che sono dietro alla Petite Armée. Da 5 persone siamo arrivati a 20 persone, tra popolani, nobili e soldati del primo impero, delle divise del primo impero. Stiamo marciando, come si suol dire, a marcia proprio serrata. Le nostre iniziative saranno di introdurci nelle scuole per far vedere ai ragazzi come erano le divise dell'epoca e poi aspettiamo qualcuno che ci dia qualche finanziamento per incrementare le nostre divise e il nostro lavoro.